I ready-made, termine che in italiano si può tradurre come già fatto, già pronto, danno un notevole contributo al movimento d'Ada nel suo sforzo di definizione di un nuovo concetto di estetica, affermandosi come uno dei meccanismi di maggior dissacrazione del concetto tradizionale di arte. Si tratta infatti di lavori realizzati utilizzando oggetti della vita di tutti i giorni, presentati però come opere d'arte. L'idea nasce dall'estro di Marcel Duchamp che inventa anche appunto il termine per definirli, cioè ready-made. Il primo ready-made viene creato proprio da Duchamp ancora prima della nascita di Dada. Si tratta della celeberrima ruota di bicicletta realizzata a New York nel 1913 e andata perduta. Una replica del 1951 realizzata sempre da Duchamp e esposta a New York nel Museum of Modern Art. Altro ready-made che passerà alla storia è Fontana del 1917 che non sarà mai esposta e verrà anch'essa perduta. Con i ready-made si annulla il concetto per cui l'opera d'arte è il prodotto di un'attività manuale svolta da un individuo che, mentre la svolge, ha come consapevole obiettivo quello di voler creare proprio un'opera d'arte. Opera d'arte può essere dunque qualsiasi cosa, concetto che implica anche che nulla è arte. Questa evidente tautologia è in realtà un modo per affermare due concetti importantissimi. Il primo, che l'arte non deve separarsi altezzosamente dalla vita reale ma confondersi con essa. Il secondo, che il valore di un artista non consiste nella sua abilità manuale ma nelle idee e nei pensieri che vuole comunicare al mondo, spesso dando significati nuovi e diversi a oggetti del quotidiano. Il valore dei ready-made, infatti, è soltanto nell'idea. Bene, questo è tutto. Per video più approfonditi su questo argomento o argomenti simili, date un'occhiata al mio canale YouTube dove troverete anche oltre mille video per la maturità e non solo. Su Amazon trovate invece i miei riassunti. Faccio un enorme in bocca al lupo a tutti i maturandi. Alla prossima! Alla prossima!